L'appello dei genitori di Chiara, la ragazza che è morta domenica scorsa dopo aver cenato in un ristorante a causa di un'allergia. Nel servizio vedrete anche tutti i consigli per chi soffre di gravi allergie. In questo momento vogliamo solo che la morte di Chiara non sia vana e per questo rivolgiamo un appello affinché di queste forme allergiche si parli senza reticenze o paure. Lo hanno detto i genitori di Chiara Rebecchini, la ragazza di 24 anni con una grave forma allergica morta domenica sera per uno shock anafilattico. Chiara era allergica fin dai primi anni di vita all'uovo, al latte e a tutti i suoi derivati. Ma cosa bisogna sapere sulle gravi forme di allergia? Questo è il famoso kit salvavita, è una penna che contiene adrenalina, che deve essere utilizzato dai pazienti fortemente allergici ad alimenti o a sostanze quali veleno di menottili, di ape e di vespa e deve essere utilizzato immediatamente all'inizio dei primi sintomi sistemici. E' facile da usare, si toglie questo capucetto e si avvicina direttamente alla cute di qualsiasi parte del corpo. L'inoculazione avverrà automaticamente. Lo shock anafilattico è una reazione gravissima che inizia quando la persona entra in contatto con la sostanza a cui è allergico. Coinvolge tutti gli organi, non tanto e non soltanto la cute, in particolare il sistema cardiorespiratorio e pertanto è necessario intervenire immediatamente per bloccare questa reazione. Lo shock anafilattico è una malattia rara, ma i soggetti allergici sono tantissimi. E' importante sottolineare che questi soggetti allergici possono effettuare dei vaccini specifici per la sostanza a cui sono allergiche e questo attenua nel tempo l'intensità della reazione e migliora sicuramente il quadro clinico del paziente.